Come era facile immaginare e come anche noi avevamo preannunciato in tempi non sospetti, la raccolta differenziata di Siderno ha generato un fenomeno di fuga del rifiuto che rischia di coinvolgere, anzi già ha coinvolto, i paesi vicini. La prima ad annunciare sanzioni pesanti è Marina di Gioiosa Ionica, che ha visto negli ultimi giorni il proliferare di rifiuti indifferenziati vicino ai cassonetti e non solo. Insomma, i latitanti dei rifiuti fuggono da Siderno perché non trovano più i cassonetti e i più educati vanno a depositare rifiuti nel paese vicino, gli altri creano delle vere e proprie discariche abusive. Una situazione che pesa e che in minima misura potrebbe anche essere fisiologica in situazioni transitorie, ma nel caso in specie assume un aspetto rilevante poiché nel comune di Siderno c'è un altissimo numero di persone non iscritte al ruolo dei rifiuti e di fatto impossibilitate a ricevere ed utilizzare i Mastelli per la raccolta differenziata. Qualcuno degli abusivi si è autodenunciato circa 500, ma secondo le stime sarebbero ancora tanti a non voler pagare la tassa sui rifiuti solidi urbani. E mentre Siderno posiziona telecamere per controllare le aree a rischio di scarica, così come annunciato dall'assessore all'ambiente e vice sindaco Anna Romeo, il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Domenico Vestito, è pronto a derogare multe fino a 500 euro ai non residenti che saranno beccati a gettare rifiuti indifferenziati nei cassonetti.